Ciao, sono Olga, sono una illustratrice e nel questo mini videocorso Libro a Fisarmonica illustrato su carta lucida facciamo un progetto finale dove sperimenteremo con la forma improvviseremo la trama e impareremo a usare illustrazioni come strumento narrativo per il tuo libro Facciamo due libri a Fisarmonica in cui applicheremo due metodi di modellatura nel disegno Nel primo libro useremo la linea come metodo principale di espressività grafica e nel secondo creeremo immagini usando macchie di acquarello e stilizzazione Pinseremo e sperimenteremo diverse opzioni di colore lavoreremo sulla composizione visualizzandola con l'aiuto delle immagini e tutto ciò che hai imparato lo applichierai al tuo progetto